La Toscana deve raggiungere i vertici in Italia nel riciclo della plastica. L'obiettivo è stato indicato dal Presidente della Regione Eugenio Gianni presentando il protocollo d'intesa che sancisce il sostegno della Regione a tre iniziative storiche di Lega Ambiente. L'edizione 2021 di Festa Ambiente, in programma dal 18 al 22 agosto a Rispescia in provincia di Grosseto, Goletta Verde che ogni anno monitora il livello di inquinamento delle coste. E nel prossimo settembre puliamo il mondo in cui il Presidente Gianni intende coinvolgere tutti i sindaci del territorio per far sì che la Toscana conquisti i primi posti nella raccolta e nel recupero della plastica. Questo è un segnale che voglio la Toscana prenda per prima. Io ambisco a una Toscana che sia quella per carico di plastica che viene recuperata la prima Regione fra le regioni italiane. Del resto, come rapporto con Lega Ambiente, io da Presidente del Consiglio regionale sviluppai quell'iniziativa Plastic Free che fu molto importante anche per quello che fu la raccolta della plastica nei mari, nei boschi della Toscana. Festa Ambiente 2021 e l'accordo con la Regione Toscana segnano anche un cambio di passo rispetto a coscienze civiche che devo dire 10-12 anni fa non avvertivamo anche nel nostro territorio regionale e tuttavia dobbiamo pretendere ancora di più. Occorre profondere con coraggio questa occasione storica che abbiamo dei 260 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dobbiamo sapere impiegare bene questi soldi, declinarli nelle varie progettualità utili al nostro Paese e alla nostra Regione. Grazie a tutti.